Il Movimento 5 Stelle a Salerno, microcredito tour, l'iniziativa si è svolta alla Galleria Capital di Salerno, il Movimento di Riva ha presentato il progetto realizzato con il taglio della restituzione di parte degli stipendi dei parlamentari del Pentastellati ed è rivolto a piccoli e medi imprenditori e start-up locali. Il microcredito 5 Stelle è un fondo di finanziamento istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico per una cifra di 10 milioni di Euro garantita dai parlamentari del Movimento 5 Stelle attraverso il versamento mensile di metà dei loro stipendi e della diaria non spesa nel biennio 2013-2015. Con questi fondi hanno spiegato i parlamentari salernitani Pentastellati è possibile salvare un'impresa al giorno per i prossimi 10 anni. È stato allestito un sito web www.micocredito5stelle.it che ha l'obiettivo di aiutare i cittadini a superare gli ostacoli burocratici. Ce ne parla il parlamentare Mimmo Pisano. Tutti gli italiani che vogliono e che vogliono imprendere potranno finalmente ottenere a fronte di un piccolo progetto che giustifichi l'investimento un finanziamento dai 25 ai 35 mila Euro finanziato con tassi abbastanza convenienti. Abbiamo registrato tassi che vanno dal 4 al 6,5-7% da rimborsare dai 7 ai 10 anni. Questo finanziamento verrà garantito dallo Stato attraverso i fondi che il Movimento 5 Stelle e che i parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno tagliato dei propri stipendi. Abbiamo raccolto fino ad oggi, quindi due anni, circa 10 milioni di Euro. Ma l'iniziativa in realtà è già iniziata. Come ho detto, il problema è che il Ministero non riesce a mettere a punto questo portale sul quale andare a fare il click. Però sostanzialmente se andate sul sito www.microcredito5stelle.it troverete tutte le informazioni e saremo anche lì ad aggiornarvi non appena si sbloccherà la cosa.